Salve, sono Regina, vi saluto da Napoli e vorrei presentarvi un'azienda Skyward Community. Personalmente io sostengo la tecnologia Skyward Community sperando in un futuro migliore. Per chi non sono collegati prima volta e non mi conosce, io sono Katuna da Toshwili con le qualifiche dell'investore leader della società Skyward Community, vivo e lavoro e sto studiando in Italia. Sono mamma di tre bambini di cui due sono studenti e abbastanza affermati che è una grande gioia per una mamma immigrata. Sono immigrata da quattro anni e svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro. Anche ho esperienza di lavoro in strutture statali, 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico. Ho anche 18 anni di gestione di imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi. Sono una specialista certificata di qualità italiana livello A2 e ora sto facendo i corsi nella Università di Federico II, corsi di un mediatore culturale e sociale e avendo esperienza di comunicazione mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella comunicazione che si è sviluppato in Georgia, Polonia, Spagna, Germania, Italia e Israele, in Francia pure. Con l'aiuto del mio team in soli due anni sono stati investiti oltre 13 mila dollari e tutto è successo grazie alla comunicazione online e gli investimenti a fine di oggi ancora stanno continuare. Quindi lo sviluppo tecnologico è un processo irreversibile e sempre diventiamo migliore con le nostre tecnologie e stiamo migliorando la nostra vita. Allo stesso tempo in questa fase del suo sviluppo l'azienda ha offerto programmi di formazione certi attualmente le specialità più richieste e altamente pagate in cui il mio team attivamente è coinvolto. Puoi immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente in nulla. C'era solo un'idea e il grande disinteressato al lavoro del creatore di questo progetto. E ora ti presentiamo Skyward Commission con le sue offerte commerciali. Il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà del signor Anatoly Junetsky con una storia di sviluppo 40 anni. Ha la proprietà intellettuale del suo progetto è stato stimato in 400 miliardi di dollari ed è dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda e un progetto che oggi ha le migliori offerte al mercato. Nello stesso signor Anatoly Junetsky ha già 73 anni ed è sicuro al 1000% che tutto questo si realizzerà nel corso della sua vita. E lui non ha rifiutato realizzare questo progetto anche quando la sua vita è in pericolo. Per chi non avete visto mai o avete visto sempre avuto tante domande. Che cos'è questo trasporto? Che cos'è Skyway? Vi rispondo che Skyway è un trasporto che si muove su rotaie ed alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Skyway di altri modi di trasporto. La struttura della linea Sky si trova su supporti che occupano poco spazio sulla terra e non evitano l'ecosistema. I bacini idrici e foreste rimangono idrate. Il trasporto Skyway è controllato da un'autopilota, ciò riduce il numero di potenziali incidenti. L'aerodinamica del trasporto Skyway consente di raggiungere velocità fino a 500 km. La costruzione della struttura in linea Sky richiede meno di raro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. Tu potresti chiedermi ma perché non usiamo l'auto ibrida? Ma guardando questa comodità e bellezza di Skyway ti dà pensare che questa comodità con le sue possibilità e questa struttura può accelerare di più la nostra vita anche così accelerata. Lo sviluppo può accelerare di più anche e tutti i servizi miglioreranno piano piano. E allora cosa stavo dicendo? Tu potresti chiedermi perché non usiamo un'auto ibrida? Ma io ti dico che quando carichi l'auto ibrida in pratica devi collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo a carbone o in un'altra materia. E prima e quindi crea danni alla natura. E' perciò che noi stiamo partecipando a questo progetto perché vogliamo salvaguardare il destino del nostro pianeta. I costi operativi sono 20-25 volte inferiori di rispetto al trasporto su strada già esistente. E' produzione di energia al minimo e perché genera energia più sufficiente e non dipende dalla centrale. Vi voglio dirvi che c'è un stabilimento anche di produzione, un centro di innovazione, Charja e MISC, dove lavorano 3.000 ingegneri e istruttori, esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro trasporto con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia, che prima era molto incredibile. Quando devi costruire una struttura Linea Sky consumi 20-25 volte meno finuvie perché noi non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio, versare acqua e rompere le rocce. Per costruire questa strada sono necessari solo soli supporti con un binario di fune per viaggiare su Sky Transport e fornire servizi con riconsegna con trasporto più veloce. Esistono anche tre tipi di passacorde, ridici, semiridici ed elastici, ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario. Come sappiamo, quando un'auto accelererà ad alta velocità deve fare i conti con il fuoco in arrivo. Si chiama resistenza aerodinamica. Il nostro Sky Transport è 1000 volte più facile da gestire e grazie allo scafo affilato è in grado di raggiungere velocità di 500 km in un'ora. Il progetto è già realizzato in molti luoghi dove è possibile visitarli. In pratica, utilizzando questo senso, possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria. Se pensare bene, quante disposizioni possiamo fare per le persone che hanno bisogno di aiuto urgentemente? Per oggi abbiamo molti tipi di questo trasporto di linea Sky. L'unibus ad alta velocità che può raggiungere 500 km. La sua capacità è da 4 a fine di 24 persone e con la sua produttività può spostare fino a 500 passeggeri al giorno. Anche l'unibus birotaia, con la sua velocità di 150 km, con la capacità di 7 a fine di 28 o in articolati di 84 a fine di 168 persone. E con la sua produttività ancora può spostare 50.000 passeggeri al giorno. Abbiamo anche merci, con questi trasporti urbani, con la sua capacità di 150 km, con la sua capacità di 6-8 persone e con la sua produttività fino a 50.000 passeggeri al giorno. Questi merci che sono più necessari dopo il trasporto marito per spostare il materiale, per costruire le case e tante cose. E allora è molto utile. Unicont con la sua velocità di 80 km e con la sua produttività può spostare 200.000 tonnellate prodotti necessari di qualsiasi tipo. Unibus monorotaia, anche un trasporto urbano, può raggiungere velocità a 150 km e capacità da 3 a fine di 14.000 persone, anche può spostare 84 persone. Dipende dal tipo di questo trasporto. Allora la sua produttività ancora è 50.000 passeggeri al giorno. E ancora i merci, tutto, questo è una macchina pescatore. E anche, allora, sappiamo che le strade sono congestionate da auto che con la loro emissione possono causare l'inquinamento e molte malattie. Purtroppo ci sono anche i paesi che dovranno mettere in atto la sicurezza, perché la mancanza di sicurezza è la causa in molti incidenti. Negli anni 70, allora, ancora esistevano questi problemi di inquilamento e sicurezza. Nel 1978 il signor Nato Liunetti, inventore proteggista di navi volanti, presentò il suo primo articolo scientifico dopo cinque anni di ricerca sull'atmosfera. E che in cinque anni l'atmosfera era stata molto inquinata e continuare così più decenni avrebbe esposto la popolazione a conosciute malattie. E purtroppo adesso questa situazione esiste in mezzo al covid. La circolazione ha causato a decenni problemi. Strada sovrappolata, mancanza di sicurezza e dispendio di energia colossale. Per i propri interessi e propri obiettivi l'umanità ha danneggiato la natura e i paesaggi. Stiamo abbattendo foreste, prosciugando fiumi, i bacini idrici, distruggendo montagne, sciogliere e quindi la natura risponde con disastri naturali. Questo è il motivo per cui il trasporto necessario è più richiesto nella storia di esistenza umana. Purtroppo la nostra realtà è così. Anche due anni fa abbiamo avuto questi tipi di trasporto, urbani, pubblici, i merci, con alta velocità. Di alta velocità e molti partner. Ogni partner della società Skyward Community è in una posizione redditizia. Qui è possibile firmare un successore e anche ricevere entrate aggiuntive dal programma di partnership. Di qui parleremo in un incontro specializzato per gli interessati. Il vantaggio e il fascino della nostra azienda sta nel fatto che è una forte unione di persone con obiettivi e valori comuni. I rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario, che è già diventato un processo irreversibile. In cui parlano i progetti già realizzati, pianificati e firmati. Questa è una città lineale dove dovrebbe essere Sky Transport, però con la sua produttività possiamo utilizzare per tutti i servizi. Per il miglioramento di tutto. Questi progetti già realizzati ti dicono tutto quando entri nella tua pagina, quando registri e finisci la verificazione. sulla tua piattaforma puoi trovare anche la legge con l'accordo legislazione europea. Allora troverai tutto, ti apre. Tutta verità su questo trasporto, tutti i webinar, tutti i progetti già realizzati e organizzati. E anche c'è un sito uneschi.engineer dove puoi vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette i 40 anni di duro lavoro del signor Antonio Jumetsky, a quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro. E come è possibile non vedere questo? E allora, le persone che sono interessate di entrare in questa azienda, vi dico che tutti noi abbiamo tanti profitti in questa azienda e vi spiego che sono. Allora, idrate i dividenti, guadagni dal programma di partner, l'ereditarietà, disposizione sulla restituzione del denaro, diventi comproprietario di tecnologie, partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salire dal nostro pianeta blu. Passi alla storia, come finaltro poi crei i capitali per una vita spensierata, hai la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai, a testato di formazioni in specialità impegnative e altamente retribuite. E quello che è importante molto per te è il valore del tuo acquisto e direttamente proporzionale al numero delle tue azioni. Personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120.000 dollari per da soli 1.000 dollari. Cosa non avrei potuto fare nella vita reale? E' sicuro che i miei azioni sono ancora più tanti. Cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra? O in quanti anni potrei risparmiare così tanto? E' per me che l'azienda Skyward Community è diventata il senso e il supporto della mia vita. E con la mia possibilità di tempo sto utilizzando tutte le offerte e possibilità dall'azienda. Io sono contentissima. Quindi sempre ho la possibilità di guadagnare qualcosa e creare i capitali per una vita sensierata per i miei figli. Cosa è più importante per te? E' importante che sia un prodotto reale che puoi visitare, toccare e sentire la sua velocità e comodità per te stesso. E non ha bisogno di essere paragonato a nessun'altra azienda. Questo è l'unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessate. Ecotecnopark è stato operativo in Belorussia nella città di Malta Gorka e negli Emirati Arabi Uniti. In particolare nella città di Sharjah, nel centro di innovazione all'intorno di Università Americana, dove è già possibile visitarli. Ecco qui. Allora, all'Università Americana degli Emirati Arabi Uniti c'è una linea di prova del nostro trattamento che opera per 15 chilometri intorno all'università. Questa distanza comprende 21 stazioni e ogni visitatore può sperimentare il conforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto linea stringa del futuro. Personalmente per me e per i molti partner è diventato ancora più credibile che l'Italia sia tra i 200 paesi partner. E allora, da dove prendiamo i nostri benefici? Il 32% della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare con proprietà di tecnologie innovative. E allora, i pacchetti azionari, pure vi dico, allora, i pacchetti azionari possono cominciare da 50 dollari, anche da 250 dollari. Quindi, una persona che entra può avere il numero minimo da 50 dollari a 700 dollari, però se aspetti i dividenti, se aspetti il risultato per cui stai entrando in questa azienda, perché aspettare al minimo e perché non aspettare al massimo reddito? La società Skyward Community è stata registrata in Inglaterra, in Isole Vergini, come società europea nel 2014. Pertanto, i diritti del single co-partner sono scritti e tutelati della normativa europea. Inoltre, l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato. Ecco qui, quello documento. Allora, dopo la registrazione della società, le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in quindicesima fase. In quindici fasi, scusate. Ad oggi abbiamo già completato la quattordicesima fase di sviluppo e siamo prossimi alla quindicesima fase, che già da aprile sarà pubblicata, perché stiamo cominciando la quindicesima fase. E preparatevi e iscrittevi i vostri certificati per realizzare il vostro sogno o prendere i vostri dividenti. Allora, già quest'anno la società Skyward Community è stata introdotta con il nome cambiato, in 2022, vicino ad inverno. E allora, i pacchetti azionari, come vediamo, partono da 50 dollari, però da 250 abbiamo più buona cifra e vi consiglio cominciare da 250. Loro partono da 250, diciamo, e arrivano fino a 150.000 dollari a seconda dell'interesse degli azionisti. Un rappresentante di qualsiasi classe sociale può investire. È possibile usufruire di rate interne a tasto zero sul pacchetto azionario. Ti consiglio a non perdere il tempo per ottenere maggiori informazioni. Te fornisci subito al tuo invitato il link di registrazione o fissa un incontro per darti risposte più specifiche nella direzione che ti interessa. E allora abbiamo anche, e allora, pacchetti specializzati, offerte specializzate, perché non si vede, non so cosa è successo. E allora, pacchetti specializzati possiamo fare per i nostri bimbi, studenti, eccetera, eccetera. Allora, forse è cambiato qualcosina. Dopo il completamento della quindicesima fase, dopo che avremo le nostre azioni, si sta già spostando sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando la situazione dei dividendi. In realtà, sì, allora, parliamo da che cosa è utile il trasporto. Allora, vi spiego. Il trasporto esiste davvero e si adatta a tutte le situazioni climatiche. Il suo corpo è resistente alle radiazioni, converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità. E ciò che è importante per te, alla fine, c'è ancora la possibilità di unirti in questo progetto ambientale più globale, unico e senza precedenti di cambiare la tua vita in meglio. Skyway è un trasporto unico che salverà la vita a milioni di persone, centinaia e anche migliaia di ettari di paesaggi, miliardi di animali e uccelli. Anche vi posso dire che l'azienda tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo di tutti i diritti del comproprietario. Questo è un grande conforto per noi, il produzione, il produttore del signor André Uneschi che presenta una relazione annuale sul lavoro svolto. E la nostra azienda ha una disposizione del denaro se decidi improvvisamente di lasciare azienda, ti offre di aggiungere più 4% a determinate condizioni restituire i tuoi soldi come mutuatario. Tuttavia, se qualcuno dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta, però questo precedente non è stato finora rilevato. Guardiamo ancora questo trasporto e ancora dopo parliamo ai nostri diritti. Questo trasporto tramite pannelli solari e anche il suo corpo può convertire l'energia solare in elettricità lavorando praticamente senza sosta. In termini di trasporto passeggeri può trasportare il numero molto maggiore in 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti. In termini di inquinamento siamo adattati che sostanze nocive non esistono e quindi nessun danno per la natura anche non esiste. In termini di incidenti è il più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli esistenti. Ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano di consumo, trasporto marittimo, terrestre e aereo e tutti questi tre tipi di trasporto creano danni alla natura. Per cui questo progetto è molto unico, vi posso dire che questo progetto ha soddisfatto tutte le aspettative del signor Antonio Uneschi. che ha avuto l'idea di costruire lineari dove servirà il trasporto sky linea stringa, i nostri bisogni quotidiani, la natura saranno preservati. e questa è la nostra salute, questo è fatto per la nostra salute e sopravvivenza e come l'immagine mostra, l'immagine precedente che avete visto già mostra chiaramente dove è stato realizzato questo progetto pilota quanto è pulita l'atmosfera. e noi stiamo partecipando a questo progetto perché è innovativo, ad alta velocità, sicuro, facilmente integrabile e soprattutto ecologico. che è importante e necessario. e allora, per ora, volevo ricordarvi di nuovo i nostri profitti in questa azienda. allora, il nostro profitto è i ratei rividenti, guadagni dal programma di partner, l'ereditarietà, disposizione sulla restituzione del denaro, diventi comproprietario di tecnologie, partecipa a un progetto più ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu. hai la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai, puoi andare dappertutto dove costruiscono questa linea di Sky Transport, linea stringa e non solo. qui, allora, puoi anche essere umano e grazie di te possono realizzare questi progetti in molti paesi. allora, anche al stato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite. allora, quello che è molto molto importante per te è il valore nominale del tuo acquisto e direttamente proporzionale al numero delle tue azioni. e questo è stato per me molto importante prima di entrare in questa azienda, sicuro, quindi tutti noi abbiamo intenziali, sì, però possiamo essere molto utili anche per il nostro pianeta, allora, per il nostro salute è lunga la vita e migliorare la salute umana. vi dico ancora che io sostengo la tecnologia Skyway, sperando in un futuro migliore a questa compagna in sicuro che ci prospetta vita lunga e salute. e lo sviluppo tecnologico già è disponibile per tutta l'umanità e mi fa piacere che questo è un processo irreversibile e veramente tra poco la nostra vita cambierà a maggior parte e avremo la vita più sistemata, più bella e molto 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 migliore. la società di Skyworld Technology che è diventato con un nome cambiato Uneskisting Technology con le sue offerte e opportunità e sono stato attratto dalla qualifica di investore, il leader e anche un speaker di questa società. ringrazio ringrazio per averci l'attenzione, vi saluto da Napoli sempre ringrazio 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 E la nostra vita diventerà ancora migliore e migliore. Vi auguro desegliarci in un altro mondo dove sarà pace, libertà, tanta bellezza e amore. Ciao.